ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale oggi andremo a provare l'appena arrivato shelly add on esattamente questo ragazzi quindi vedremo se riuscirà a sfidare sempre in casa shelly lo shelly uni quindi seguiteci dopo la sigla unboxing quindi switcherei l'immagine su questa telecamera dove vi farò vedere un veloce unboxing dello shelly add on quindi classica scatolina shelly con all'interno appunto il nostro prodotto che andiamo un attimino a vederlo in dettaglio vi ricordo che questo shelly add on non può essere assolutamente usato da solo ma deve essere usato per forza in abbinamento con altri shelly e gli unici compatibili sono lo shelly plus 1 quindi la serie plus sicuramente comunque poi lo shelly plus 1 l'1 pm il 2 pm l'i4 e l'i4 dc sempre della shelly della serie plus guardando un attimo nel dettaglio possiamo vedere appunto tutti questi pin utilizzabili tramite collegamenti analogici digitali e anche in aggiunta è possibile collegare direttamente dei sensori di ht 22 di s18b 20 che di fatto stiamo parlando di sensori di temperatura e umidità sulla sinistra troviamo gli ingressi nello specifico un ingresso analogico e un ingresso digitale a livello di uscite abbiamo un uscita vref out ovvero una uscita con una tensione di riferimento poi vi spiegherò cosa significa ne abbiamo un'altra sempre con uscita con una tensione di riferimento ma in più abbiamo la possibilità di utilizzare la resistenza di pull up quindi vref più r1 out inoltre dall'altra parte abbiamo tre uscite di alimentazione del sensore dei vari sensori che possiamo collegarci che sono collegate alla stessa traccia di fatto del pcb interno quindi vcc stessa cosa per i tre terminali di terra gnd e poi abbiamo i tre terminali dei dati dei sensori anche questi collegati alla stessa traccia del pcb che sono identificati appunto con data quindi queste di fatto gli ingressi e le uscite allora qualche specifica diciamo che questo sensore si può quindi lo scegliadon si può collegare per esempio per farvi qualche esempio a un sensore di livello che quello che vi farò vedere oggi quindi un a bocca automatico banalmente di un acquario tramite questo sensore di livello per esempio che una volta che il sensore di livello scatterà quindi l'acqua scende a una determinata soglia tramite il nostro scegli uno a contatto pulito scegli uno plus a contatto pulito abiliteremo banalmente una pompa che andrà a reinserire l'acqua nel nell'acquario questo è un esempio ed è quello che vi farò vedere oggi però non la vieta per esempio di utilizzarlo come sensore perpuscolare quindi tramite una resistenza una foto resistenza collegata allo scegliadon nel momento in cui raggiunge una determinata soglia tramite la configurazione a interfaccia dello scegli è possibile abilitare o disabilitare l'ingresso dello scegli uno plus o uno pm io ho collegato il plus ragazzi perché secondo me è l'accoppiata migliore perché avendo un ho collegato l'uno volevo dire perché l'accoppiata migliora avendo un contatto pulito e si presta a qualsiasi tipo di applicazione in più è alimentato ovviamente a due 20 adesso all nell'esempio non inventerò a 12 ma ovviamente questa accoppiata quindi scegli uno plus scegli adone vincente qualora noi abbiamo come alimentazione la la 12 la 220 che è nel caso avessimo la possibilità di avere direttamente la 12 potremmo utilizzare anche lo scegli uni ovviamente lo scegli uni a degli acute differenti ma comunque sarebbe possibile utilizzarla altre applicazioni oltre ai crepuscolari possono essere ad esempio un sensore di pioggia che abilita o disabilita le tende aperte quindi mettiamo che abbiamo delle tende piuttosto un sensore di vento nel momento in cui ribera lo scegliadon la pioggia tramite il nostro scegli uno plus chiudiamo appunto queste tende poi vi farò in sovraimpressione vedete una serie di sensori che si possono collegare direttamente appunto questo scegli adon ora andiamo a collegare il tutto e vi farò vedere tre cose la prima utilizzare un sensore digital in e digital auto in maniera semplice quindi aperto chiuso e in base a questo far reagire lo scegli la seconda leggere una tensione in ingresso allo scegli adon e la terza invece il progettino completo con appunto il sensore di livello per acquarlo unito ovviamente a tutto alla configurazione lato pc quindi procediamo come potete vedere ho già effettuati i collegamenti non vi faccio vedere la procedura di inclusione dello scegli ovviamente comunque vi lascio qua il link in alto a destra se volete vedere un po un dettaglio su come si include uno scegli ho utilizzato quello sotto che è blu e vedete che è uno scegli uno con il relativo scegliadon già collegato e l'ho collegato con un alimentatore stabilizzato a 12 bene ragazzi quindi adesso andiamo su l'interfaccia che è questa nel momento in cui lo collegate a una serie scegli plus versione 1 vi potrebbe capitare di trovare questa interfaccia grafica qua quindi la prima cosa che dovete fare è aggiornare il firmware perché lo scegli addon può essere utilizzato con un firmware superiore a quello che vedete in questo momento quindi ea e cambierà proprio tutta l'interfaccia anche grafica quindi adesso sto andando ad aggiornare lo scegli 1 plus in questo caso e automaticamente dovrebbe anche poi una volta aggiornato il firmware riconoscere il nuovo scegli addon e ci apparirà un nuovo menu e nel nuovo menu appunto potremo andare a configurare questo scegli addon quindi adesso io inizierò a spiegarvi il menu una volta che si riavvierà lo scegli per poi invece andare un po a testarlo con appunto qualche collegamento a livello di sensore direttamente lo scegli addon e vedere cosa possiamo fare diciamo che lo scegli addon è concepito a per essere inserito insieme a uno scegli 1 ad esempio in una scatola a muro una classica presa piuttosto che dove ci sono gli interruttori quindi attendiamo che finisca l'aggiornamento del firmware ci rivediamo subito dopo ci giunti quindi nella nuova schermata del firmware scelli che è presente in tutta la serie plus quindi noi andremo adesso a visualizzare concentrarci esclusivamente sul menu addon la prima cosa che dovremmo fare è sicuramente abilitarlo e ci chiederà subito di effettuare un reboot ok quindi stiamo andando a fare un reboot e automaticamente terminato reboot vedrete che ci apparirà appunto la possibilità di aggiungere una periferica in questo caso dobbiamo dirgli che tipo di periferica vogliamo aggiungere quindi se abbiamo un sensore banalmente della temperatura da aggiungere utilizzeremo uno di questi due a seconda del modello che abbiamo piuttosto che invece possiamo andare a verificare un digital input un analog input o far misurare una corrente nel nostro caso andremo a effettuare un test per quanto riguarda un ingresso digitale quindi andremo a salvare appunto le opzioni e ci chiederà sempre un altro reboot quindi attendiamo anche qua che finisca il reboot dello scegliadon perfetto qui stiamo vedendo che in questo momento non essendoci collegato nulla allo scegliadon adesso andremo a collegare appunto un input lo stato è off quindi andiamo un attimo sullo scegliadon colleghiamo un ingresso a livello digitale quindi gli diamo in sostanza una corrente e qua vedremo che riuscirà ad intercettare appunto il lo stato e oltre a questo una volta intercettato lo stato sarà possibile andare ad esempio tra sempre tramite questa interfaccia ad abilitare una nuova azione quindi a seguito di un cambio di stato da non off noi potremo andare a creare una nuova azione e andare a inserire una serie di parametri quindi quando questa azione deve essere considerata attiva quando effettivamente viene eseguita e ad esempio un url da chiamare o una local action ok quindi vuol dire controllare per esempio direttamente il nostro scegli uni ok quindi scusate il nostro scegli 1 plus quindi quello che ci sta sotto allo scegliadon quindi a seconda ad esempio di un determinato evento noi potremo banalmente accendere fa scattare il relè quindi accendere un qualsiasi altra periferica bene questo è per farvi un esempio sulla parte di azioni su invece la parte di sitting possiamo andare a dirgli appunto se abbiamo un nome se vogliamo dargli un nome il tipo di input se sarà momentaneo quindi button oppure costante switch nel nostro caso sarà button sarà momentaneo invertire la logica di on and off oppure effettuare un factory reset appunto dello scegli add on come avete potuto vedere è possibile aggiungere anche ulteriori periferiche quindi ad esempio un input a livello 100 e metteremo anche un voltometro per esempio anche qua però ci chiederà sempre di fare un reboot della nostra periferica comunque è possibile aggiungere molte più periferiche e utilizzare appunto tutti i collegamenti quindi ragazzi adesso vi voglio far vedere un po come si muovono diciamo questi valori quindi mi reco un attimo sullo scegliad on e vado a modificarlo e fare alcuni collegamenti con voi ho terminato i collegamenti per farvi vedere come funziona diciamo alla pressione di un pulsante tramite appunto impulso alla parte di digitale possiamo accendere questo led che vedete qua tramite lo scegli allora banalmente io adesso ho alimentato il mio scegli a 12 quindi qua sotto qua sotto in questi collegamenti qua dopodiché ho fatto passare una tensione a 33 sul contatto pulito dello scegli sempre qua ve lo giro un attimo per farvi vedere ma vedete i riferimenti ovviamente dei collegamenti per lo scegli 1 plus mentre sulla parte diciamo ad ono semplicemente collegato la mia gnd a questa breadboard così tramite quest'altro filo che è appunto collegato alla digitalina quindi all'ingresso digitale posso andare a come potete vedere si è acceso led quindi se lo rifaccio perché l'ho messo in modalità toggle si spegne quindi basta dare una gnd al digitalin e configurare una regola che adesso vi farò vedere per accendere e spegnere come potete vedere ok quindi adesso torno un attimo al pc eccoci e vi faccio vedere cosa ho fatto qua quindi una volta che abbiamo inserito la periferica input andiamo a dirgli che la modalità in questo caso simulato uno switch quindi ho lasciato switch e quindi questa è la prima cosa da configurare successivamente basta andare nelle action e definirne una nuova io l'ho già definita dove gli ho detto in sostanza che alla quando l'input va a on quindi quando c'è dal gnd la gnd viene mandata al digitalin fai un toggle ok come azione ovviamente come azione si possono fare anche direttamente on e off però a questo punto bisogna creare due regole una per accendere e una per spegnere usando la parte di toggle come ho fatto io date gnd si accende togliete ridate gnd si spegne ok quindi questa è molto semplice come configurazione ora passiamo a qualcosa di più complicato adesso diciamo inizio a collegare sensore di livello in modo tale da farvi vedere appunto come funziona sensore di livello che accenderà comunque sempre poi il nostro led ho terminato i collegamenti ho preso questa botticella per simulare un acquario e livello dell'acqua poi collegamenti comunque ve li trovate anche nello schema qui in alto ma in ogni caso collegato il cavo blu al gnd della donna il cavo nero ha sempre al gnd il cavo giallo al digitalin e quello rosso al vrf out ok ora vi faccio vedere sono belle acceso perché ovviamente pensa che il sensore non essendo avvicinato al livello pensa che deve rabboccare ora se io avvicino il sensore a livello corretto come vedete il led spento la pompa non sta andando se l'acqua scende quindi lo simulo salendo ecco che si riaccende nel momento in cui l'acqua dovesse risalire perché la pompa ha rabboccato l'acquario quindi torno un po giù vedete che mi spiega il led quindi come ho fatto a fare questo lato programmazione dello shell add on semplicemente sono andato a definire delle altre action lasciando il mio input di prima uguale praticamente quindi configurato come switch delle altre action nello specifico queste due ho spento ovviamente la prima quindi quando è troppo vuoto quindi da un impulso il sensore allora accendi la pompa ok è la stessa cosa nel momento in cui invece torna pieno perché la pompa ha riportato l'acqua correttamente a livello corretto quindi se l'input diventa off vai a spegnere appunto la pompa ok ragazzi con questo abbiamo visto come si crea un sensore di troppo pieno o in cui nel nostro caso rabbocca automatico più che troppo pieno perché ne servirebbe un altro appunto per gestire anche il troppo pieno con un altro sensore di livello ma si potrebbe tranquillamente fare sempre tramite il nostro shell add on ultimo passaggio vedere come funziona il diciamo il sensore di tensione che in questo momento segna 3 e 35 quindi torniamo un attimo adesso alla parte di schema e quindi vi faccio vedere nel dettaglio i collegamenti ho effettuato un collegamento molto semplice per mostrarvi appunto il lettore di tensione ho collegato un cavo al VCC direttamente da questa parte in uno di questi mossetti e un altro cavo con l'arancione al GND quindi mi basterà collegare appunto il cavo nero del VCC all'analogin oppure quello del GND sempre all'analogin per vedere il variare della tensione adesso vi faccio vedere se andiamo qua collego il VCC 351 collego il GND e dovrebbe andare più o meno a 0 come vedete è andato a 0 VCC ancora torna alla tensione di lettura 351 questo è un esempio ovviamente molto sintetico di come poter utilizzare il lettore di tensione anche qua poi è possibile aggiungerci delle azioni per ovviamente a reagire di un variare di tensione bene ragazzi con questo vi ho spiegato un po il tutto a questo punto andiamo alle nostre conclusioni finali bene ragazzi allora abbiamo visto l'utilizzo del nostro shelly addon ovviamente è una periferica che va sempre in accoppiata con almeno uno shelly 1 plus come abbiamo visto oggi a contatto pulito ma anche gli altri della serie plus possono andare bene è molto vantaggioso qualora ci si ritrovi con una sola tensione quindi ad esempio la 220 quindi da inserire nelle scatole a muro per esempio in abbinata una serie di altri sensori che sono i classici sensori di arduino che quindi possono essere foto resistenze sensori di livello i grometri e temperature quant'altro comunque poi trovati in descrizione una serie di applicazioni vi consiglio anche di andare a vedere sul sito del produttore ufficiale per altri tipi di collegamenti allora quando è che è vantaggioso secondo me appunto come abbiamo detto quando abbiamo una alimentazione a 220 perché se no ricordiamoci sempre che esiste il nostro shelly uni che fa più o meno le stesse cose vi lascio comunque la recensione che abbiamo fatto qualche tempo fa dello shelly 1 qua in alto da poter andare a consultare e direi che comunque hanno fatto bene a fare questa aggiunta ripeto proprio per questo specifico caso cioè con un'alimentazione quindi senza doverlo alimentare a 12 volt possiamo tranquillamente andare a controllare una serie di altri sensori quindi ragazzi vi consiglio l'acquisto anche visto il costo che purtroppo però non può funzionare da solo deve per forza avere un altro shelly quindi il costo diventa 13 14 euro circa per la don più l'altro shelly altri 14 15 euro quindi siamo sulla trentina d'euro vi ricordo che lo shelly uni ovviamente costa molto meno bene ragazzi quindi io vi ringrazio per averci seguito vi invito a lasciarci dei like se il video vi è piaciuto e ad iscrivervi al canale oppure anche ad abbonarvi per sostenerci in maniera tale da riuscire a produrre sempre contenuti di qualità grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi